In Italia diciamo che in quel momento il consumo verteva principalmente su un'unica varietà di consumo di riso che era l'Arborio, che ancora oggi è il riso più consumato e venduto in Italia. Appunto i fratelli Bosco allora decisero di portare altre varietà e di presentare questo riso Roma che è ancora tutt'oggi il nostro diciamo cavallo di battaglia, il riso più venduto per la nostra azienda e di presentarlo un po' come alternativa alla varietà riso Arborio.